eccoci qua buon martedì sera 14 marzo a tutti voi si conclude la sesta estrazione del mese video flash nessun risultato unica previsione qua su youtube 83 90 data sabato quindi siamo a due colpi questa sera non è successo nulla si porta avanti comunque questa previsione ci sono delle novità allora il 90 stasera è risortito di nuovo su napoli chi ha avuto questa tabella ecco qua sa a cosa mi riferisco allora a genova è arrivato due volte 90 e quindi due volte a bari questa sera esce di nuovo a napoli guardate due volte napoli e quindi firenze quindi abbiamo ancora le carte in tavola e quindi esce due volte a genova e due volte va bari esce due volte a napoli due volte a firenze quindi la classifica integrale rimane sempre bari firenze roma e palermo poi guardate qui abbiamo il 6 in terza posizione il 6 in terza posizione dovrebbe portare il 90 proprio su firenze roma è vero che ci sono tante altre somme 90 l'ho vista anche io ma teniamo conto sempre dall'ambatta contata alla quale possiamo fare non dico affidamento al 100 per però voi sapete che l'ambatta contata ha successo e continuerà a avere successo guardate qui questa sera cosa succede sulla ruota di palermo 86 di venezia sabato 11 marzo potete pescare qualsiasi numero questa lambatta contata ve lo sono fatto sempre vedere in tantissimi video 86 la signora ha scelto l'86 guardate qua 55 perché se voi fate 5 10 15 ritornate qua l'86 supera le 55 caselle perché da bari a venezia sono 55 caselle la ruota nazionale non si conta quindi 55 60 65 70 75 80 85 86 arrivi a palermo in prima posizione ma dovresti giocare poi palermo e genova perché genova la paella è la gemella del palermo quindi o 86 genova palermo o 68 genova palermo o 68 86 ambo secco e ambetto che cosa succede sulla ruota di palermo primo colpo arriva il 68 86 ambo secco guardate qua che bellissimo ambo e continuano arrivare sempre le vostre ambette contate 86 a palermo estratto semplice qua ci sono già quasi circa 20 euro ma poi il bello arriva adesso l'ambo secco 68 86 un numero solo ambo secco la signora mi sta ringraziando a tutto campo ha scelto un numero solo poche volte che gioca l'ambatta contata vince qualsiasi numero mi raccomando quindi potete essere vincenti anche con le vostre previsioni ve l'ho sempre detto può capitare che va male può capitare a lambata può capitare a lambetto e come questa sera la signora va a beccarsi l'ambo secco e in un colpo solo e fortuna sì certo che anche fortuna ma se adoperate il sistema che vi ho detto sempre da anni vedete che qualcosa andrete a vincere sicuramente allora abbiamo detto la previsione che rimane sempre quella del 83 e 90 firenze e roma si porta avanti quindi giovedì prossimo si continuerà ancora come vi dicevo napoli porta firenze genova porta bari questa è l'ambatta contata questa è una tabella del 90 che voi l'avete in tanti ve l'ho fatta anche scaricare il quadro youtube se la vorrete poi vi lascio di nuovo link e la riscaricate così almeno avete un quadro diretto di quello che potrebbe essere poi per quanto riguarda il 90 come vi ripeto ci sono tante somme 90 ma come riferimento sempre l'ambatta contata che fino adesso si è rivelata sempre eccezionale ma date continuate ancora a mandarmi le vostre ammatte contate a ogni istrazione c'è sempre sempre da scaricare i vostri esiti bravissimi continuate così allora previsione che si continua su firenze e roma 83 ambo e ambetto firenze roma il napoli ci regala la seconda conferma per firenze roma il 6 di roma porta il 90 firenze roma ci risentiamo le prossime news da marcus è tutto buona serata ai prossimi video ciao ciao ciao